Ci sono volute quasi due ore per estrarre un cittadino di origine indiana dalle macerie del crollo avvenuto a Cancello Arnone in provincia di Caserta. L'uomo il cui nome sarebbe Singman Pret nonostante il crollo è vivo ma versa in gravissime condizioni ed è stato trasportato in eleambulanza al reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il cedimento del casolare in via di Iaz in una contrada rurale alla periferia del paese. Secondo una prima ipotesi potrebbe essersi trattato di un collassamento statico della palazzina, già in fatiscenti condizioni dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni. Le prime ricostruzioni dicono che al momento del crollo anche un altro uomo di origine indiana, un operaio, si sarebbe messo in salvo poco prima che le mura cedessero. Poi tanta polvere urla e la corsa contro il tempo per tirare fuori vivo dalle macerie l'altro uomo di origine indiana che era rimasto intrappolato sotto le grosse pietre di tuffo del casolare. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Casal di Principe che hanno prestato i primi soccorsi.